Piacere essere qui con voi anche quest'oggi, allora, questo va messo così Mi dia ancora un secondino Twitch Shot, gentilmente E che altro mi serve? Questo, devo cambiare la scena, devo sì cambiare la scena ma lo farò tra un attimino per favore Abbiate pazienza, abbiate pazienza tra un solo secondino a cambiare la scena No, povero giù, anch'io bro, ti capisco, però non ci arrendiamo, non ci arrendiamo Si recupera tutto con gli interessi, però è solo questione di mental, più o meno E di l'usere Q che ovviamente esiste ma questa è chiaramente un'altra storia Allora, è successa una cosa incredibile, allora, stavo facendo i miei raptor, ok Stavo facendo i miei raptor quando all'improvviso Ho realizzato che gli avversari stavano facendo il mio red Allora sono andato al red e l'ho picchiato e ho fatto double kill, anche se voi non state vedendo niente Ora vi faccio vedere, sì, devo rimettere la web E... ora faccio anche questo Sapete cosa posso fare per far prima? Posso, broken actually Mi siete persi una bella scena, no, mal fight Come hai abbandonato la partita? Ma questa era una vittoria, il tizio è disconnesso No, dai, ma no No, ma signor mal fight Ma perché non ci può fare... ma la tua squadra è tempo di fare remake, ragazzi È tempo di fare remake, ragazzi, siamo senza mal fight No, 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 ragazzi, no remake, no remake, no remake, è tornato mal fight Ragazzi, ripeto, no remake, è tornato mal fight e afg Ragazzi, remake, remake, ragazzi, remake È afg mal fight, remake Oh no Ma il bro mal fight dov'è? Non hanno surrendato, ma questi sono psicopati È tornato mal fight, grandi che non hanno surrendato Le scu, le scu, le scu Saggi che non hanno surrendato Bravissimi, ragazzi Ve l'ho detto di non fare surrendere, cacchio Il leggendario mal fight, il leggendario mal fight Allora, dimensioni emporia Facciamo così, scala chat, facciamo 94 96, minimappa Chad Questo un po' più piccolo Ok, così ci dovremmo essere, penso Molto bene, molto bene Mamma mia Lo stratega mi chiamamolo anche Anche Qui mi ha guardato Lee Sin Vieni se c'è il coraggio Vieni che ti spacco la faccia Vieni che ti spacco la faccia Lee Sin Vieni che ti spacco la faccia Ah, non ci vieni, eh Lo sa che gli spacco la faccia Ok, allora Top Team ha guardato Mid è stata gancata e morta La povera piccola Leblanc sembrerebbe Sì E invece The Great Escape No, è morta alla fine L'avevamo detto Ok, purtroppo non ho la pallina Per ammazzare Capitano Sion Però comunque lo posso Bro, ma la vedi che questa qui va sotto torre? Ma la vedi che va sotto torre? Ma la vedi che va sotto torre? Ma la vedi che va sotto torre? Ma sei tonto? Fuck Bro, ma ti sto facendo un favore! Ma ti sto facendo un favore! Lo capisci? Non lo capisci? Che ti sto aiutando? Non ti sto derubando Mi sembra, guarda Mi sembra di essere il povero Bilbo Anzi il povero Gandalf quando parla con Bilbo Sono il povero Gandalf Sono io ragazzi Sono io Non lo capiscono, non lo capiscono Ciao Nuzzo, come stai? Bella partita È stato uno stop, Pieri Vabbè, Paolo e la squadra Veramente patetici No, scherzo Sono stati bravi È stato un bel game Allora Devo rimettere la web, ragazzi Aspettate, scusate Facciamo Facciamo i golem Facciamo i golem Copium Un po' di copium Sì, un po' di copium Un po' di copium Anche per le blank Un po' di copium per tutti Vabbè Non erano in forma Ci sta Ma sono sicuro Che si rifaranno Il prossimo game Tanto Ancora la strada è lunga Ancora la strada è lunga Senti Ma questo qua Si può? Grande Le blanchina Pallina Colpisce Sion Boncata in testa Che però non colpisce al centro Ah, quanto tanka sto Sion Ma è pazzesco Batti sto bestione Allora, perfetto Ah, devo spostare di ordine Le persone qua Uno, due, tre Qua così ci va Le sin qua Di carry qua Mid qua Top support Perfetto Ragazzi, voglio giocare Lilia Perché è uscita la nuova skin Mi sono gastato un sacco Quanto è bella la nuova skin Lilia Quanto è bella la nuova skin Quanto è bella la nuova skin Quanto è bella la nuova skin Ragazzi Come va la gola Adesso prendo subito una caramellina Per evitare di morire Durante la giornata Grazie per aver chiesto Comunque Blitz è carino Blitz Un po' meglio Oggi mi sento decisamente meglio Rispetto a ieri Però la gola penso che Cioè, ora sto bene Poi tra magari un paio d'ore Starò meno bene Ovviamente Ma certo che ti ganko Arrivo subito Patatino Oh, guarda il timo con i dodge Perché non vedo il Perché non vedo sulla Sulla testa del tizio Il cd Il cd Capito? La durata del cc Perché non si vedeva ragazzi? Oh Che è sto scam? Forse è interfaccia Abilità informazione Interfaccia Forse è questo E forse è questo Ragazzi Bo Capiamo Abbiamo livellato Ora metto anche quelli Sì, hai ragione Quanto è bella La nuova skin di Lilia No, no Scusa Lo metto subito Lo metto subito Lo metto subito Ecco Roscia la web Ci stiamo dimenticando qualcosa Per live Direi che c'è tutto Così, no? Potrei forse Capare gli fps No, arrivo patatino Malphite Resisti Resisti No, Malphite Resisti Malphite Ultamelo 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 Senza paura Poi se morire non fa niente Sempre ward No, ma questo team è velocissimo Ad attaccare Andiamo back Andiamo back Ah, sai cosa devo provare? Secondo me La play E mandate Lilia Secondo me quella è la play Mandate Lilia Ragazzi Che ne pensate Di questa mia intuizione Incredibile Broken, no? Allora Illumina lo schermo Quando ho colpito Mostra vecchio puntatore Mostra costi incantesi Meno di secondi Qualcosa mi sto dimenticando Ancora Credo Il signor Lissina è bot Ma ora subito Andiamo a picchiarli Con la mia Mandate Lilia Pazza Drive epico Gone wrong Brucia Sì, sì, sì Brucia Brucia, brucia Good job, man No, good job tu Oh, bruna placca Guarda che roba Così secca proprio Che fai Non te la fai l'altra? Ah, quindi mi diamo con Morganella Guarda, sono un po' troppo tank Stavacca Forse dovrei provare a giocare Ghost Lilia Ma non è già troppo rapida Lilia Poi magari perdi il controllo Del campione, no? Comunque io sono sempre stato Non lo so Fan di Lilia Forse Lilia tank Col mandate Forse potremmo provare Sono sempre stato fan di Lilia Full AP Più che tank Lilia Cioè mi ricordo Quando Jack Shaw Forse non era Jack Shaw Forse era Jack Shaw Sì, proprio a release Mi pare fosse completamente broken E Lilia Conqueror Jack Shaw Darkhawk Cioè tipo con Frozen Heart Dead Man Plate E altre cose Era disgustosa Ah, questo lo Oh, guarda lì un po' Io ho uno smite ragazzi Ho uno smite E non ho paura di usarlo Ma che sto facendo? Impossibile cliccare sul bulbo No, se n'è andato Il maledetto Vabbè Astuto, astuto Anche al forno Esatto, sì Oh Alle blanche Non si accorta niente Però alle blanche Però alle blanche Bro alle blanche Bro alle blanche Vabbè Ce l'abbiamo fatta Le blanche Non ha Minimappa Non pervenuta Allora ragazzi Lei l'ho mischiato Perché sto facendo Questa è una blind Ok Lissine platino Argento ferro Argento Gli avversari Mi alleati Abbiamo bronzo oro Non classificati Non classificabili Forse addirittura È una normal Sì Allora E invece guarda la nostra bot Che performa Normal games Perché ti chiedi? Perché? Perché? Lascia fare Lascia fare Trasta il processo Ok? Limitate a trastare il processo Ma se fanormal Gioca con voi Lo farei se potessi Ci facciamo superare A tutti Tanto nessuno Supererà il mio record Ok? È un contento di poco Sob 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 Ci sono capo Capo ci sono Quando vuoi fare Le giocate pazze Ci sono capo Fammi sognare Fammi sognare Fammi sognare A dormire A dormire A dormire L'ho svegliato blitz Vabbè Non voglio morire No 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 Vabbè Sobad Vabbè Scermino anche mi protegge Broken Ha funzionato Ha funzionato All good Molto bene Molto bene Aspetta che Devo ricollare Un po' di soldi in tasca Ragazzi Quando dovrebbe arrivare La patch È uscita Cioè stasera Stanotte è uscita Stamattina in realtà Siamo in patch Non so Ma sta patch è uno scam Cioè Ma non hanno Hanno nerfato Kazix Non hanno nerfato Un cazzo Non hanno nerfato Hanno nerfato A Mumu E non hanno nerfato Kazix Porta Forse sono Sto esagerando Si può nerfare Oh 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 Si può nerfare Guarda la pallina Tiro da 3 Su Sion Oh Il tiro da 3 di Liglia Oh 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 Bello broken Kazix No no Non nerfiamolo Non nerfiamolo Non nerfiamolo Kazix Non nerfiamolo ragazzi Non nerfiamo Kazix Non nerfiamo Kazix Nerfiamo Poi ho visto che L'ho buffato un po' Il buffa la Drakhtar Cioè hanno nerfato la Yumu Rendendola effettivamente Più weak Di quello che attualmente è Perché era forte Ok oh mio dio Storizino è faker Ho visto che è Insek Allora Quello era flash kick Molto interessante Ah no 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 Oh ma L'istino è faker Quello è platino Si vede Platino 4 Adesso ho c'ho l'altra maschera Io ho un po' gridato Sicuramente Allora Cioè L'hai visto Faker Comilato di Simfaker Ma l'hai visto quello lì L'hai visto Ma l'hai visto Ma l'hai visto No 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 Per me è solo un onore Essere paragono da voi Figurate Allora Andiamo a clearare Botside Che problemi hanno Non hanno nerfato Kaziksa Hanno nerfato Releon Sol Però non lo so Non lo so Non lo so Sono perplesso Sono perplesso Dopo andiamo a analizzare La patch note insieme Patch note analisi Su youtube Epica Ciao Popard Come stai? No Blitz non ha mano Povera patata Però guarda come doggio Guarda che piedi in lestica Guarda Non fa capire niente agli altri Guarda Guarda Ma questo malfight Può rimanere sempre bassito Sta solo soffrendo È una vita di sofferenza Sua Povera patata Che schifo Ma dove è andato Sion adesso? Ma Sion era qui fino a poco fa Dove è finito Sion? Oh mio di la pallina No Drake Capiamo Vediamo fare il Drake Potremmo fare il Drake Che bella Avete visto la nuova skin di Lily Ragazzi Troppo bella Adesso inizia Lily Arc Ve lo dico Con la nuova skin di Lily Inizia Lily Arc Tanto Kane è tipo Tier Z Il campione più scarso Di League of Legends Attualmente Penso È tornato Faker Però Morgana tira la ulti Tira il binding E la c'è in CC È reale E ci prendiamo la kill su Sine Ci giriamo su Sion Doggiamo la Q Siamo velocissimi Hip È lo stordimento Di quella ragazza lì Arriva anche lei Non è contenta Non è contenta E addormentiamo Blitz Forse un po' overkill Era la mia quadra questa Maledetta Facciamoci il drago Che in red è più Altro che debole Brokin è tipo 45% V-rate Penso sia il campione più scarso Del gioco del pianeta Cioè un campione giocato dagli OTP Per il Penso 80% 90% Gioco solo dagli OTP Kane E Tipo il V-rate Sotto la suola delle scarpe Una cosa vergognosa Te lo giuro Cioè non ho mai visto Kane col V-rate così basso E non è nemmeno colpa mia Perché io Ultimamente l'ho persa Tutto con Kane Ma l'ho persa tutta Challenger e Grandmaster Quindi Io in genere filtro Master Cioè parzialmente colpa mia Comunque assurdo Cioè non ho mai visto Kane col V-rate così basso Mai Anche perché un campione Generalmente è sempre forte Il solo Q Vabbè va Finiamo questi due campetti Ammazziamo il Roche Che mi piace tanto Allora cambiamo pick E infatti ho iniziato Lilliar Perché mi piace tanto Lilliar Ma la nuova skin È eccezionale Hai visto Bard C'è pure Bard Sì pure Leona Bella Comunque belle skin Belle skin Mi sembrano un po' Tipo Bard Mi sembra un po' Come si chiama Allora c'è stato un incidente Ho colpito il coso da ieri Ma non me l'ha fatto colp... Cioè Non è giusto ragazzi Vi dico solamente che non è giusto Perché io L'avevo colp... No l'avevo colpito L'avevo colpito L'avevo colpito Non è giusto Vi giuro Cioè è stata un'interazione molto strana C'è stata Mamma mal fight Con la ulti secca Boo Senza paura Andiamo a vincere Ripla uccisione O che si è messo era al mid intanto Abbiamo il magiai staccatissimo Fare MF bot Popping off pure Ok ok Vabbè easy game Potrebbe essere... Sì Perché ho il mandate Ma ragazzi no Sapete che il mandate è broken Adesso Lo builda Victor Lo builda Orianna Lo builda un sacco di mage il mandate Cioè non so se su Lily è good ok Però comunque ti dà statistiche ottime Allora il problema di questi oggetti che fanno È che sono troppo poco costosi Quindi poi diventano broken su ogni champion Perché questo è un oggetto che ti costa 0 gold E ti dà 55 ap 20 abilitari Generazione mana E poi ti buffa il danno sui avversari Cioè Che cacchio vuoi di più della vita? Rigenerazione mana fortissima sui jungler Ah sì I jungler non hanno bisogno di mana True Questo aspetto della jungle Un po' forse unbalanced Però Comunque schifo non fa dai Cioè di peggio nel senso Salve Sponk Salve salve Senta io prenderei un ricolo Poi i soldi in tasca Quanto corre? Eh micidiale Lilia sì Sponk Mandate cane Capiamo Eh può essere Può essere Può essere una play Oh Alla fine gg well played Alla chat disattiva Ok 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 Secca vittoria Grande vittoria Grande vittoria Grande vittoria Che onoriamo ragazzi? Il mal fight Però non troppo Miss fortune Le blank sicuramente no Onoriamo mal fight Sangue freddo Good boy Good boy Va bene va bene Pure di onore ho ricevuto Troppo gentile ragazzi Grazie 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 grazie